E' colpa tua, ti ammazzo con le mie mani, sei contento adesso? Questo l'urlo in aula di Veronica Panarello conto il suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro presunta relazione. Quando è stato ucciso Loris aveva 8 anni. L'omicidio commesso con delle fascette di plastica avvenne il 29 novembre del 2014 nella casa degli Stival di Santa Croce Camerina. I giudici accogliendo la richiesta e l'accusa, il PG Maria Aschettino e il PM Marco Rota hanno confermato la decisione di primo grado emessa il 17 ottobre del 2016 dal gruppo di Ragusa Andrea Reale con il rito abbreviato. Da quello che abbiamo potuto capire, ha spiegato il legale di Veronica Panarello, Francesco Villardita, parlando delle urla lanciate alla sua assistita in aula, ce l'aveva col suocero che ritiene responsabile dell'omicidio del figlio. Dopo mi ha detto questa frase Sono delle frasi, ha sottolineato il penalista, che in un momento di sconforto ci possono stare anche se non si possono giustificare. Dobbiamo comprendere il suo stato d'animo. Sarà interessante leggere le motivazioni e in particolar modo per vedere perché non hanno concesso le circostanze attuenuanti generiche, una sorta di semi-infermità, di non dover rifare la perizia psichiatrica e il confronto con il suocero. Valuteremo il ricorso in Cassazione.